I caffetti, ti e ti e ti Allora dammi E qua, vietalo qua Non capisco tutto questo presepe che fa Tempo sprecato Tenare che se ne va Non è stato meno buco Non viene neanche bene Eh Gio Non sapessi che non viene bene Io oggi poi sono stato il padre dei presepi Quando veniva a Natale veniva a chiedere consigli a me Ma veniva lui che dice che non viene bene Eh E a me non mi piace Edoardo ha lavorato sempre Tenendo presente L'esigenza della gente Stando attento A quello con le sue orecchie Molto grandi A captare che cosa succedeva intorno E quindi sicuramente questo presepe Lui lo ha visto in qualche modo E secondo me anche in modo contraddittorio Cioè da una parte Questa enorme tradizione Questo enorme amore Del popolo napoletano Verso il presepe È quello che rappresenta Dall'altra parte Come un momento di estraneamento Rispetto al contesto Te piace? No Il presepe è che è una cosa religiosa Una cosa religiosa con l'enteroclisma da dietro? Eh beh Ma Ma se quello non è finito ancora Come puoi dire non mi piace Eppure quando è finito non mi piace Cazzo fa non mi piace Non mi piace E basta E basta Ci si chiude E ci si immagina la felicità Perché non la puoi avere fuori Non la puoi avere intorno E questa contraddizione secondo me C'è proprio il Natale in casa Cupiello Nella commedia Per cui il protagonista Pur di non vedere che cosa gli succede intorno Si chiude e fa il suo presepe Il suo momento di felicità se lo costruisce Ma paga questo con la morte E 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 prego signori accomodatevi all'interno per le superiori oggi viene il novità potete anche comprare non solo guardare il poteco trappare spigliano di un partaglio fondamentale che dov'apparare i cieli con lei con lei oggi viene il novità potete anche comprare buongiorno buongiorno a tutti ben trovati sono a napoli perché oggi mi piacerebbe accompagnarvi in un viaggio davvero speciale oggi 22 dicembre probabilmente molti di voi hanno già preparato il presepe però forse non tutti sanno il significato che si cela dietro le statuine che animano il presepe ebbene cercheremmo di capirlo attraverso un viaggio in un presepe napoletano del 1700 questo viaggio inoltre sarà scandito da tutta una serie di riconoscimenti che verranno dati dall'assessorato al turismo ai beni culturali della regione campania verranno date a tutta una serie di personalità laiche religiose che si sono particolarmente distinte nella difesa del mondo dell'infanzia per quale motivo perché il vero protagonista del presepe è il bambinello e allora iniziamo subito questo viaggio guardate che meraviglia e come per magia mi ritrovo all'interno di un presepe vivente napoletano del 1700 ebbene qui fervono le attività già tutte quelle attività che solitamente le statuite nei nostri presepi rappresentano tutti al lavoro tutti insomma non proprio tutti scusi buongiorno si può svegliare il pastore che dorme ma qui che succede luigi necco mi dia una mano buongiorno napoletano doc che succede dicevo le attività è una delle figure più classiche del presepe napoletano e sta solo sul presepe napoletano benino benino ma la polonia lo chiamano il durmian e si rifà ovviamente la cantata dei pastori che questa specie di canonaccio sul quale e si può cantare ma si può costruire il presente quello lì è proprio l'uomo normale che certe volte nella barahonda dei grandi avvenimenti non si accorge di quello che gli sta intorno dorme e allora benino benedetto viene svegliato dal dal grande evento dal grande avvenimento e diventa il pastore della meraviglia ma secondo gli esegeti e l'ingenuità e la semplicità però è anche la presa di coscienza dell'inizio di una nuova storia di fronte alla magia di questa di questa rappresentazione di questo fatto che si sta verificando la nascita e allora c'è come se uno si svegliasse da quel sonno che lo ha tenuto lontano dalla verità fino a quel momento esatto e viene solitamente posto nella parte più alta del presepe ma benino non è l'unico pastore presente per la verità secondo eccolo qua un altro il pastore con l'agnè ce l'abbiamo in tutti i presepi importantissimo lui è la raffigurazione si sul presepe è il pastore con l'agnè il pastore senza agnero non si capisce ma lui è il buon pastore in quel momento è nato colui che ha la missione di guidare la gente verso verso una nuova vita però guardate che non è così semplice oltretutto è la prima rappresentazione del cristianesimo di cristo e fin quando non abbiamo accettato la croce il buon pastore era cristo ma prima ancora già nelle religioni orientali compareva il buon pastore l'importante l'importanza di questo avvenimento è che i fatti anche più antichi e meno conosciuti acquistano significato ed è un significato nuovo insomma ha un valore simbolico in effetti perché rappresenta anche Gesù che viene immolato sulla croce allora proseguiamo Luigi perché lo dicevo ci sono tante attività tante figure tanti personaggi di questo parleremo più tardi Luigi andiamo da questa parte perché ci sono naturalmente tante presenze femminili come per esempio queste lavandaie come potevano mancare le lavandaie e loro usavano la cenere la buccia d'uovo usavano altri ingredienti come gli agrumi per profumare il bucato sono detenersivi ecologici questi non c'è dubbio ma la lavandaia è talmente centrale nella vita di quel tempo l'ultimo ritrovamento archeologico fatto a Napoli sono le lavandaie del medioevo che invece poi di simone mette dentro la sua gatta cenerentola in questo momento corale bello di donne meravigliose allora una precisazione Luigi perché queste lavandaie sono vestite di scuro e sono secondo i Vangeli apocrifi le testimoni del parto di Maria quindi sarebbero le testimoni della verginità di Maria stessa e questi abiti scuri sono in realtà in contrasto con i panni bianchi che lavano che invece rappresenta il cardindore ancora una volta la verginità di Maria e allora eccole qua le lasciamo attente ai loro lavori perché a questo punto io vorrei insieme a te Luigi incontrare un'altra donna cioè in tutti i presepi Stefania questa figura è una figura della quale in effetti si è parlato forse troppo poco perché lei era secondo la tradizione una ragazza non sposata che decide di andare a fare visita al bambinello però secondo la tradizione nella grotta della natività non potevano entrare le donne nubili questo è il motivo per il quale prese un sasso lo avvolse con una coperta per simulare di essere mamma Maria che si rese conto di tutto questo alla fine però la perdonò e a un certo punto disse a Stefania beh perché non allatti il tuo bambino improvvisamente quando tolse la coperta si trovò proprio un bambino una specie di miracolo un bambino che si chiamava Stefano ed è questo il motivo per il quale noi festeggiamo santo Stefano il giorno dopo la nascita di Gesù per me presepe la sagra famiglia lo faccio con il sughero e il cartone la cosa più semplice più bella naturale eminenza tante le figure all'interno del presepe partiamo dagli ultimi dagli umili semplici pastori che significato hanno all'interno della rappresentazione sono i destinatari di questo grande annuncio dell'umanità sono coloro che accolgono l'annuncio nella loro semplicità nella loro umiltà in quello che è anche il loro vivere quotidiano e di fronte all'angelo che annuncia la nascita di questo bambino non pongono ostacoli e diventano i primi spettatori di questo evento che ha cambiato la storia io il presepe lo faccio col sughero naturale la giorta con grata contraria ma va contraria ma va siamo strassi adatta strallare ma va strallare ma va bella donna palladoro palomiano sparati arriamo la piglia dell'avollo storica dopo a forse non tutti sanno che all'interno del presepio ci sono anche delle forze diaboliche No, non sono loro naturalmente, ma sto parlando della figura che si trova alla mia sinistra. Eccola qua, la vedete. Lui rappresenta proprio il capo supremo del male, il diavolo in persona. Mi dispiace ma non ci tengo nemmeno a darle la mano, anche se è vestito elegante, mi spaventa e basta. Che cosa rappresenta la figura del diavolo nel presepe? Rappresenta la cospirazione del male nei confronti della natività. Infatti il bambinello trasportato da San Giuseppe e Maria dovette fuggire in Egitto per scappare dalle grinfie del re Erode. Ma in realtà il diavolo non è l'unica forza del male rappresentata nel presepe, ce n'è anche un'altra. E già, la vedete? L'apparenza inganna in questo caso, possiamo proprio dire, perché apparentemente sembra una vecchina che tesse il filo. In realtà questa signora rappresenta le tre parche, ve le ricordate quella del mito classico? E già, le tre parche erano le divinità che avevano in mano il destino degli individui. E ce n'era una di queste tre, in particolar modo, che aveva delle forbici. Attraverso le forbici poteva spezzare, tagliare il filo e quindi tagliare, interrompere la vita delle persone. Signora, ecco, le riponga perché in effetti dobbiamo finire la trasmissione. Ma in realtà questa statuina, questa figura, ha un doppio significato. Rappresenta anche, secondo alcune tradizioni, Maria, seppur avanti con gli anni. Perché secondo, appunto, i Vangeli apocrifi, Maria era una donna particolarmente capace nei lavori domestici. Quindi viene rappresentata nell'attività proprio della filatura. Ma seguitemi da quest'altra parte, perché queste non sono le uniche due figure maligne, diaboliche, presenti nel presepe. Ce n'è anche un'altra. Eccola qua. Signore e signori, vi presento l'oste. E secondo tante tradizioni, questa figura è una figura davvero pericolosa, diabolica, tentatrice. Lo vedete? Mi ha posto anche il vino e devo dire che con il freddo andrebbe anche bene. Ma è troppo presto a quest'ora. In realtà l'oste rappresenta proprio il contrasto tra la vita materiale, quindi il bere, il mangiare, e la vita spirituale riproposta dalla stessa natività. La presenza di tanto cibo nel presepe sta anche a rappresentare la voglia di allontanare la miseria, la povertà, per l'augurio di un anno decisamente migliore. Ma non solo. Il pesce è il modo per allontanare le forze del male, mentre invece la frittura rappresenta la prosperità. Oh, hotel ma, hotel, tu che sei pittore, qua la grotta è marina giustamente perché siamo a Napoli, c'è una macchia d'umido, c'è da fare una piatta a bando, una botta di pittura. Hai rinforzato l'insalata di rinforzo? È rinforzata, rinforzata, ma chi sarà da mangiare? L'incredibile Hulk. Mamma mia. E ci sta tutto, i cavolfiori, le papacelle, olive bianche, olive nere, olio ex-vergine di vino, aceto e sale e cubì. Lo vedi? Lo vedi che sto inorridito? Che è successo? Sono allibido, te? Ci mancano una cosa base. Mamma mia, era giù. Ci mancano le acciughe? È certo che ci mancano le acciughe, sono quelle che danno sapore all'insalata. Brava, brava. Mannaggia, i maschi, non della cucina, non capiscono niente. Infatti non siamo maschi, siamo superuomini, io nacqui superuomo, tutti i grandi chef sono superuomini. Tutti i giorni li cuciniamo noi, altri uomini. Per sopravvivere, così per cibarci, quando si tratta di mangiare e degustare, là interveniamo noi. Uè, 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 devi addormentarle sul cavolo, dolcemente, teneramente. Senti un poco, capo, capo, ma perché si chiama insalata di rinforzo? Perché parte il 25 con ingredienti base, che sono cavolo, olivo, cappero e coba, ma poi fino a capodanno va rinforzata, rimane una cosa e tu ce la aggiungi. Chiaramente ci deve stare in armonia, saper fare, mica ci può mettere pasta e fagioli, i profiteroli, il millefoglio. Scusate, potrei fare una domanda, ma se a uno non piace? Eh, ci sta tutto questo benidio. Ho preparato il franzo di Natale che parte baccalafritto, capitone, pizza di scarola, muscine e friarelli, vermicelli con le vongole, zuppa santi che è proprio di casa mia, vedete, là, riso, polpettine, uova, guardate. Ma poi c'è la maritata. Ah, no, 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 per cortesia, io sono un galantuomo, mai con una donna sposata. Ah, no, no, ma che stiamo dentro un posto al sole, che stiamo in una soppa? Ma stiamo scherzando, la maritata, ma la maritata è una cosa meravigliosa. Vi voglio leggere la ricetta, l'ho scritta perché qua non si può improvvisare, eh ragazzi, questa è roba codificata. Allora, salsicce di vario tipo, soppressata, pancetta, prosciutto, muso di vitello, piedi di porco. No, scusate, cos'è, una rapina? Un'altra battuta. Faccia meno lo spiritoso anche lei, per favore. Carne secca, un orecchio, formaggio, finocchi, anice, unghie, capelli. Vabbè, ma scusa, l'anice, vabbè, serve per digestivo. Secondo me, comunque è meglio che ci buttiamo sul capitone fritto perché così è più leggero. Sì, sarà pure più leggero, ma non mi dà tanto quell'impressione, secondo me. Non la vuole finire, eccola, parenti serpenti. Io ho preparato questo, ben di Dio, il capitone, a parte il fatto che è una prelibatezza, ed è la base del pranzo di Natale, porta bene. No capitone, no fortuna, 2008, pieno di sciagure, catastrofi. Oh, capo, scusate, qua si parla di mangiare, di mangiare, ma che ci beviamo sopra? Eh, che è arrivato il sommelermo. È arrivato, è arrivato la sommelermo. Sua eccellenza, l'architetto Daniela Scrobogna, chiaramente dell'associazione sommelermo italiana. Buongiorno, buongiorno. Bene, vedo che abbiamo l'insolata di rinforzo. Allora, a causa della presenza di sottaceti e acciughe, proporrei... Ci mettiamo con un... Lambrusco. No, aspetta, ti faccio a burro, vai là, vai là. Mettiamo invece un vino bianco morbido, un campano sicuramente a base di fiano greco, chardonnay passato in barrique per quanto riguarda l'Italia. Poi vedo qui la minestra maritata, che per la sua corposità e grassezza... A sito di pandelleria. Le orecchie d'asino si possono avere per questo... Adesso mi informo. No, 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 assolutamente no. Invece proporrei un bel vino rosso. Diciamo campano, possiamo andare su anche un aglianico del Taburno, un irpignaglianico, un falerno del Mastico. Se no, una bella barbera d'asti per quanto riguarda il livello nazionale. In onore di Orrella, il barbera d'asti, in onore di Ornella e Piemontese. Eh, che dirvi, buon Natale, no? Ce lo diciamo, si può dire? Vuoi piedarti? Buon brazzo, buon Natale. Che Dio vi benedica. Ma secondo te la signora è maritata? Vieni di porco. C'è sempre una prima volta nella vita. E oggi è la prima volta in cui ricevo un presepe. Siamo nei camerini della RAI di Domenica Inn e la Regione Campania, Assessorato Turismo e Beni Culturali, mi hanno dato questo premio che è la prima edizione, te piace o presepe? La mia risposta è sì, perché il presepe è il cordone umbilicale con la mia infanzia. Il presepe erano i giorni della spensieratezza, i giorni del regalo, piccoli regali. I regali che erano quasi sempre mandarini o dei melloni che si tenevano sotto il letto durante tutto il periodo che andava dal settembre fino al Natale, appunto. Quando penso al presepe penso al mondo dell'infanzia. Un'infanzia che purtroppo è sempre più maltrattata, purtroppo è sempre più schiacciata. Nel mio piccolo ho fatto e continuo a fare delle cose che vanno fatte a favore dei più deboli, dei più esposti. Ultimamente mi sono interessato di quel bambino calabrese, Riccardo Pio, che da quattro anni viveva con questo dramma della sindrome di West, che non gli permetteva di crescere, non gli permetteva di fare una vita normale, come tanti altri bambini la fanno. Un corpo di quattro anni, ma racchiuso in un'anima di quattro mesi. Siamo riusciti a fare tutto quello che c'era da fare. Il bambino adesso si trova negli Stati Uniti, a Fort Lauderdale, che è l'unico ospedale che cura questo tipo di malattia. Quindi il mio è un appello a questo. Non dimenticatevi e non dimentichiamoci di chi non ha la possibilità di poter fare una vita normale. Ed è quello il vero presepe. Ed è quello il vero Gesù bambino che nasce. Buon Natale a tutti. Albano. A casa mia il presepe si fa con la cascata. Beh, il presepe in effetti rappresenta una certezza, perché ogni volta che lo prepariamo ci sono sempre quelle stesse figure. Qui il tempo sembra fermarsi completamente, in effetti. È un vero e proprio punto di riferimento. Tante le attività, il pane, lo vedete più tardi ci soffermiamo, adesso per uno spuntino è ancora un po' presto. Ma in realtà nel presepe ci sono altre figure femminili particolarmente significative. Eccole qua, signore e signori. Due donne dalle pelli bruciate dal sole, le vesti lacere e soprattutto una di queste due donne ha un paniere. Allora, loro sono le due zingare e in questo paniere, signora, mostre... No, me lo dia, dov'è? Ecco qua. Aspetti, aspetti. Allora, dentro questo paniere ci sono i chiodi e un martello. Queste sono... e la tenaglia. Queste in realtà sono dei segni profetici, rappresentano infatti il calvario che Gesù vivrà e quindi la morte sulla croce di Gesù. Ma non solo, non finisce qua. Ci sono tante altre figure particolarmente significative, come quella, per esempio, del mendicante che abbiamo incrociato prima per strada. Non so se ve lo ricordate. No, non gli dia i soldi! Non gli dia i soldi! In realtà questo signore è qui nel presepe non per ricevere l'elemosina, ma semplicemente per chiedere delle preghiere. E già, arriva sulla terra, secondo la tradizione, e quindi arriva nel presepe proprio il 2 novembre per poi tornare nell'aldilà il 6 gennaio, quindi giorno dell'Epifania. Perché quello che chiede in questo presepe, come vi dicevo, è soltanto delle preghiere per poter raggiungere più facilmente, in modo più veloce, il paradiso. Io il presepe lo facevo e lo faccio ancora, con la carta, con la farina e con la colla. Numerose le figure presenti nella Sagra Rappresentazione, tra queste ci sono anche le persone distratte, potremmo definire così, tutte quelle figure che continuano a svolgere le professioni sulle quali erano impegnate. Sì, questo è il realismo, diciamo un po' tipico anche del presepe napoletano, che rappresenta le situazioni della vita, la vita di ogni giorno, la vita che svolge la mamma in cucina, che fa il falegname mentre sta secando del legno, del bambino, anche come questi nostri bravi bambini, che rincorrono qualche animaletto del cortile, il fabbro. E credo che questo rappresenti veramente l'idea principale di questo mistero dell'incarnazione. Cioè è Dio che si fa uno di noi, che viene ad abitare in mezzo a noi, partecipa alla vita nostra. Naturalmente in questa vita, che qualche volta è anche un po' distratta, è un po' indaffarata, non sempre l'attenzione si converge verso la mangiatoia dove è deposto il bambinello. Però c'è sempre l'idea che Cristo diventa il centro della nostra vita. Il presepe va fatto così, caratteristicamente napoletano. Il presepe va fatto così, caratteristicamente napoletano. Il presepe va fatto così, caratteristicamente napoletano. E' bellissimo, veramente un'opera d'arte straordinaria. Quindi, anzitutto, ciao Lorena. Io voglio ringraziare gli organizzatori di questo bellissimo premio per aver pensato a me e avermi dedicato questa cosa strepitosa. La sto guardando da vicino ed è veramente molto, molto carina. Sono contento di riceverla a nome della mia piccola associazione che si chiama appunto Associazione Zio Greggio per l'aiuto ai bimbi nati prematuri che 12 anni fa praticamente è nata e ha cominciato a donare apparecchiature agli ospedali che avevano necessità. Abbiamo aiutato circa 70 ospedali in Italia con tante apparecchiature. Ogni anno divento zio di un sacco di bambini. Più o meno attraverso queste apparecchiature sono due, tre, quattrocento bambini ogni anno che vengono salvati e questa cosa mi fa molto piacere. Devo dire che uno dei grandi successi della mia carriera è stato proprio questo di poter rubare un po' al personaggio pubblico e mantenere un impegno con me stesso che appunto avevo preso quando ho iniziato a fare questo lavoro e cioè dedicare un po' di tempo a chi aveva bisogno. Quindi grazie ancora a tutti gli organizzatori di questo premio un grande abbraccio. Ciao Lorena e porterò con me questo premio come uno dei ricordi più belli. Grazie, ciao. Frutta, frutta! Nel presepe del Settecento c'è anche tanta frutta. Lo vedete, le signore nel frattempo stanno facendo la spesa. Non c'era lo scontrino fiscale nel Settecento c'era tutto più veloce ma la frutta, torniamo a questa ci sono tanti tipi di frutta le fragole, le ciliegie anche dei frutti che non appartengono alla stagione invernale ma sono posizionati nel presepe perché hanno una funzione propiziatoria di prosperità per l'anno che verrà. Da questa parte invece c'è il formaggiaio il formaggiaio nel presepe napoletano del Settecento ha una funzione simbolica molto precisa perché rappresenta lo scorrere del tempo il suo braccio sono un po' le lancette dell'orologio lo vedete mozzarella di bufala campana e delle uova ebbene queste uova venivano messe perché rappresentano i semi che vengono messi nei campi per far nascere appunto tanti prodotti ed è un po' il simbolo della resurrezione in un certo senso in ogni presepe che si rispetti inoltre c'è anche il fornaio guardate quanti tipi di pane tanti tipi di pane napoletano dalle freselle al tortano e ancora c'è questo pane tondo con le alici che è un pane tipicamente napoletano la presenza del pane nel presepe ha un significato molto preciso e anche molto importante perché durante il Natale si scambiano i pani in segno di fratellanza e tra questi pani ci sono per esempio i pan gialli che è un dolce tipico natalizio lo so essendo figlia di pasticceri ma c'è un altro dolce tipicamente natalizio il panettone o pandetoni la tradizione vuole che alla corte di Milano il duca avesse preparato organizzato anzi una cena di gala ma durante questa cena purtroppo lo chef bruciò il dessert ecco il motivo per il quale dovettero ricorrere ad un pane che era stato preparato da Tony che era un garzone allievo dello chef e che aveva messo dentro questo pane uvetta, candini insomma tutto l'avanzo della cena stessa ebbene questo pan de Tony venne servito a tavola ed ebbe un grandissimo successo tant'è vero che venne proprio nominato pan de Tony da cui panettone riccardo siamo pronti con l'ultimo impasto delle zeppole? quasi pronti maestro devo solo aggiungere le scorzette d'arancia le scorzette dopo riccardo prima le freggiamo poi mettiamo il miele, i diavolini e alla fine un po' di scorzette d'arancia ma nel panettone le scorzette d'arancia si mettono nell'impasto e che c'è ora il panettone se stiamo facendo le zeppole ricca? madonna mi proprio un piemontese mi deve capitare stamattina potremmo fare una variazione una variazione? sì, mettere un po' di gianduia per esempio ma no, quelle gianduia non va bene ma ti spiego la ricetta da capo perché vedete che non hai capito niente fino a mo' per fare le zeppoline col miele bisogna mettere 500 grammi d'acqua due cucchiai di strutto, sono circa 40 grammi poi mettiamo tre cucchiai di olio extravergine di oliva un pizzico di sale e poi aggiungiamo 350 grammi di farina setacciata facciamo cuocere dopodiché la facciamo raffreddare aggiungiamo 4 uova e diventa l'impasto come vedi questo qui come quello e facciamo le nostre zeppoline oh, e poi le ricopriamo di miele e poi le mettiamo, vedi, in un vassoio mettiamo le zeppoline quando sono ancora un po' così tiepide le copriamo col miele maestro, tutto questo miele è una meraviglia mi tolgo una curiosità questi dolci qui, romboidali al cioccolato questi qui, come si chiamano, cosa sono? questi sono i mostaccioli, i famosi mostaccioli mostaccioli? sì ho capito perché si chiamano così sì, ma so anche perché si chiamano così perché quelli quando si mangia lascia dei baffi dei mostacci di cioccolato ma che c'entrano i baffi, i baffi, i mostaccioli i mostaccioli si chiamano così perché quando i contadini all'epoca li facevano mettevano nell'impasto del mosto d'uva maestro, una curiosità, ma questi qui che hanno questo profumo cos'è? i loccocò sono le spezie che profumano così è un dolce del 1300 ah, ecco perché sono un po' duretti ma no, Ricca, che dici? questi sono appena fatti, sono freschissimi è la ricetta del 1300 questa è una ricetta che si sono inventate le suore del monastero della Maddalena senta maestro, l'ultima curiosità quel dolce, lì mica anche quello è della tradizione natalizia campana no, quello no, quello come ogni anno noi ci inventiamo delle cose nuove e quest'anno c'è la pigna di Natale pigna di Natale pigna di Natale è un pan di spagna farcito con una crema di nocciole e con una meringa al cioccolato nocciole di dove? beh, questa volta ti faccio felice nocciole tonde delle langhe sono quelle, gentili delle langhe esattamente io la ringrazio della lezione che mi ha dato grazie Riccardo, buon Natale buon Natale anche a lei auguri ancora e grazie grazie ah oltre alle nocciole ce l'ha messa la gianduia là dentro ti piace o presepe? intanto assolutamente il nome deve essere napoletano perché il presepe è come dire a me ricorda subito la città di Napoli è un presepe bellissimo anche per il significato che ha questo presepe intanto il significato religioso che comunque ha perché è il simbolo della natività mentre il nostro albero di Natale che è bellissimo comunque un simbolo pagano questo è proprio un simbolo cristiano e poi per quello che racchiude il premio che voi mi date che è dedicato a chi fa qualcosa per i bambini io nel mio piccolo non lo so forse è una dote naturale quella che i bambini come dire sono attirati da me io me ne occupo come posso me ne occupo cercando di realizzare magari qualche volta i loro sogni per i bambini più sfortunati me ne occupo magari seguendo più da vicino i bambini che non possono venirmi a trovare in studio come magari questi che sono qui oggi è un premio quindi che io vorrei dedicare che voi date a me ma che io vorrei dedicare a tutti i bambini del mondo perché quando sono così piccolini hanno tante prospettive e hanno ancora un futuro davanti un futuro meraviglioso e cammin facendo ci stiamo avvicinando alla natività e vicino alla natività che incontriamo beh immagini nel frattempo lascio l'agnellino libero opla di andare nel presepe eccolo qua come vi dicevo i magi i magi secondo alcuni erano dei re ma in realtà erano delle persone sapienti delle persone dotte degli astrologi e inoltre pare che in realtà i magi fossero quattro e il quarto presentandosi tardi all'appuntamento non seguì gli altri tre ma secondo la leggenda ebbe la fortuna diciamo così di incontrare Gesù nel momento della sua passione sul Golgota dicevo i magi conosciamoli meglio intanto da questa parte abbiamo il maggio Melchiorre che porta l'oro e l'oro è proprio il segno della regalità e invece a seguire abbiamo il maggio giovane che si chiama Gaspare e porta l'incenso l'incenso è una resita che serve proprio per l'adorazione volevo precisare un altro elemento che è il nostro primo maggio ha la barba bianca perché questa barba sta a simboleggiare l'età adulta delle persone il maggio giallo il maggio dorato il maggio moro piacere bianchetti Valdassarre arriva dall'Africa e lui porta invece la mirra e la mirra è proprio il simbolo dell'umanità il maggio Valdassarre rappresenta l'età adulta della persona umana ma dietro i magi in molti presepi c'è un'altra figura particolarmente significativa la accogliamola eccola qua e arriva con questo suo passo regale perché abbiamo la georgiana si chiama così perché appartiene alla Georgia quindi alla regione del Caucaso e particolarmente significativo è non soltanto l'abito particolarmente elegante ma anche un gioiello che indossa lo vedete un gioiello con un'arma questa è un'arma turca insomma si fanno tanti incontri in questo presepe napoletano del 1700 e dai fasti dei magi dagli abiti fastosi dei magi andiamo anche a un signore che vende le caldarroste ora perché siamo nel 700 ma altrimenti se fosse ambientato ai giorni d'oggi se si mettesse vicino al cinema farebbe degli affari d'oro secondo me il presepe lo faccio con il sughero addobbo con la farina per fare la neve pastori addobbo con le luci tutto illuminato i re maggio Eminenza sono ulteriori figure caratterizzanti della sacra rappresentazione qual è il significato della presenza di queste tre figure ma io credo che rappresentano principalmente due dimensioni due aspetti fondamentali prima è che questo mistero dell'incarnazione la nascita del bambino del figlio di Dio è un fatto è una verità che unisce tutti i popoli una salvezza cioè che è data a tutti indistintamente secondo perché nella tradizione si dice che il mago rappresenta un po' la sapienza il sapiente chi è? è colui che cerca la verità questo loro camminare dalle varie parti del mondo da cui provengono guidati da una stella per arrivare per arrivare poi alla grotta e venerare e portare i loro doni a questo bambino rappresenta l'uomo l'uomo che cerca di conoscere che cos'è la nostra vita la nostra esistenza e quando l'animo è ben disposto soprattutto se siamo illuminati da una stella che ci indica la strada da seguire allora noi arriviamo alla verità arriviamo a quel Vangelo che per noi è la salvezza di tutti gli uomini ricevere come premio un presepe ricorda sempre che Dio abita i territori dell'umano territori dell'umano che io ho conosciuto attraverso l'opera grandiosa di Suora Dele una suora campana che vive in Brasile a Salvador de Bahia e aiuta i bambini che hanno entrambi i genitori in carcere certo con l'aiuto dall'Italia una piccola associazione e la prima pietra che cosa fa Suora Dele anzitutto prende questi bambini dà loro un tetto una casa li fa sentire in famiglia li porta due volte la settimana dei loro genitori che purtroppo abitano accanto ma anche insieme molto distanti perché dietro le sbarre di un grande penitenziario l'emosgibrito poi dà loro la scuola la formazione il Brasile è un grande paese che però ha molte ignoranze e quindi è importante che si dia loro la formazione perché attraverso la formazione si può diventare cittadini cittadini con dei diritti cittadini che lottano anche per la libertà dunque io ringrazio a nome di Suora Dele di tutti i bambini che vivono con lei dei genitori dei bambini che sono in carcere e dico grazie agli italiani grazie a Suora Dele nel mio presepe non ci manca mai cicciobacco in coppa 1 una curiosità in ogni presepe napoletano doc ci sono due figure significative vicine proprio alla natività sono il cicciobacco e l'ubriaco parto da lui parto dal cicciobacco perché lui rappresenta l'aspetto positivo tra virgolette del vino e già il vino è il protagonista del primo miracolo di Gesù e lo stesso Gesù si definì vera vite da quest'altra parte invece l'ubriaco ebbene lui rappresenta la parte negativa del vino comunque quando si fa un abuso del vino stesso l'alcol in questo caso può essere veramente motivo di sofferenza e di morte ecco il motivo per il quale questa figura è un'altra figura diabolica all'interno del presepe uno dei maestri di San Gregorio a me uno che apparteneva a una grande famiglia si occupò di me perché sapeva che era interessato ad entrare in questo mestiere e lui mi disse una battuta disse guarda per fare i pastori devi fare come ti dico io e fu il primo momento in cui ho capito come fare i pastori perché la mia risposta fu no se io devo fare i pastori li devo fare come dico io c'è una costante in questo tipo di mestiere se vogliamo considerarlo tale ovvero che molte botteghe si organizzano a livello familiare per quanto riguarda me e la mia famiglia devo dire che noi siamo in un caso abbastanza particolare perché non abbiamo derivazione secolare siamo nati nel 1996 siamo quindi molto giovani ciò nonostante che questo non ci ha impedito di voler entrare in una tradizione così antica della nostra città ne siamo anche fieri così io con Manuele mi occupo del modellato dei pezzi mia moglie si occupa della pittura dopodiché il prodotto passa agli altri miei fratelli cioè Lello Susi e Anna che si occupano poi della parte finale cioè della vestizione questo è un tipo di lavoro complicato vuole sicuramente una grande capacità nella costruzione sia nella parte della scultura nonché in quella della pittura e anche nel montaggio del costume e come a suo tempo questo tipo di lavoro diciamo così era molto richiesto anche dalle teste coronate che diciamo arricchivano i presevi reali nelle proprie abitazioni anche oggi molto spesso vengono richiesti proprio da questi moderni imprenditori o anche attualmente da diciamo dei costi mecenati che capiscono la difficoltà e arricchiscono le loro collezioni nel tempo il nostro rapporto con la tradizione è emblematico perché noi partiamo da un concetto di fondo che il presepe napoletano non è tradizionale tra virgolette cioè già nel settecento è moderno e rivoluzionario perché i napoletani si inventano questa cosa meravigliosa cioè di accostare all'intoccabilità della rappresentazione sagra la vita di tutti i giorni nel 2005 presentammo ad esempio Ufummanella praticamente questo personaggio che è stato sempre evitato nella rappresentazione noi l'abbiamo inserito perché ha anche una forte simbologia ecco in questo c'è il nostro rapporto con la tradizione una specie di tentativo di rinnovarla un po' violentandola ma comunque non uscendo fuori dai canoni grazie per questo premio è magnifico e lo accetto con grande gioia mi è stato dato perché faccio parte di un'associazione che si chiama Nisi da Futuro Ragazzi e che si occupa dei ragazzi a rischio napoletani è un problema che tutti a Napoli conosciamo e che viviamo giorno dopo giorno e in qualche modo ci coinvolge tutti quanti tentiamo nel nostro piccolo di affiancare la problematica di essere utili raccogliendo un po' di soldi mettendo il nostro nome a disposizione per poter ottenere dei piccoli risultati nel tempo abbiamo capito che è difficile fare le grandi cose perché ci vorrebbe troppo e non siamo capaci tentiamo di fare le piccole cose perché una goccia un'altra goccia un'altra goccia e lentamente si ottengono dei risultati ecco questo è il nostro obiettivo il nostro scopo tentiamo di essere diciamo utili anche noi nel nostro piccolo alla società e a questi ragazzi che sono il nostro futuro un'altra goccia ed eccoci arrivati al momento più importante il quadro della natività a cui finisce il nostro viaggio e qui rincontriamo Luigi Necco che è stato nostro compagno proprio all'inizio un momento commovente dal cielo scende e dalla strada sale il soave sgomento di Natale ma il fatto è qua dentro dentro questa grotta sai a Betlemme la grotta era proprio alla fine dell'abitato quindi doveva per forza essere la grotta della locanda del posto sotto c'erano le grotte dei pastori ce n'era una proprio vicino vicino e una che arrivava sotto la chiesa allora entriamo perché a questo punto ci soffermiamo sulle figure chiave prego io ti devo raccontare una cosa 11 anni fa noi eravamo a Betlemme e quel giorno ricominciarono era Natale e quel giorno ricominciarono i colloqui di pace tra Israele e la Palestina allora noi devarai incontrammo la signora la signora Agafat la Agafat si era incontrato con Netanyahu la mattina e allora la pregamo e la portamo con noi nella chiesa della natività e lei aveva la bambina e la mise sulla stella dove è nato il bambino e allora fece il giro del mondo questa cosa e beh sicuramente un momento toccante la pace la pace che insomma va costruita con dei gesti concreti soffermiamoci un attimo sull'abbigliamento di Maria la vedete qui alla mia sinistra un abito rosa che è quello tipico della Palestina e poi un velo celeste su cui ci sono tre stelle ebbene queste stelle rappresentano la virginità di Maria prima durante e dopo il parto davanti a noi Giuseppe San Giuseppe ma guarda bellissimo quel bastone e come dire lo schiacciamento della storia perché San Giuseppe il bastone ce l'ha e lo porta al tempio insieme a quello di tutti i gatti pretendenti della mano di Maria e tocca a lui perché perché il suo bastone fiorisce ora sai nove mesi dopo è ancora fiorito è la magia del presente e pare tra l'altro secondo qualche tradizione che uscisse uscì proprio da quel fiore anche una colomba perciò come dicevi tu fu proprio il prescelto aveva un segno ben preciso ma un'attenzione vorrei porla anche sull'abbigliamento dello stesso Giuseppe lo vedete ha un vestito viola che rappresenta all'interno della grotta stessa la risurrezione anche se il viola di quel manto allo stesso tempo può simboleggiare anche il dolore e la sofferenza che purtroppo il figlio dovrà vivere sì grazie alla nostra cattiveria è davvero però devo dirti però che guarda è tutto bello è tutto simbolico è tutto profondo ma l'importante è lui perché quello quella vuol dire luce ed è la luce e tra l'altro non è casuale il color oro che c'è sul manto sul mantello di Giuseppe perché quel giallo rappresenta proprio l'oro quindi la luce che Gesù Bambino diffonderà poi nel corso della vita terrena su tutta la terra sì Luigi ma il bue e l'asinello dove sono? guarda il presepe il presepe è nato dopo di Gesù e allora non c'erano non c'erano ma se proprio gli vogliamo dare una simbologia tu la conosci certamente meglio di me il bue e la mansuetudine l'altro è un segno di regalità pure quello perché perché l'asinello veniva cavalcato dal re normalmente quando si andava in guerra era il cavallo ma secondo me è tutto un regalo di San Francesco una riflessione sugli angeli in alcuni presepi ce ne sono tre in questo caso ce n'è uno soltanto e ha un panno su cui c'è scritto Gloria in Excelsis Deo ebbene questo angelo rappresenta la gloria di Dio Padre ma visto che piange anche e reclama tutti quanti noi Gesù Bambino io sono corto ma per me quello è il momento più importante perché è da quel momento che cambia il mondo cambia tutto e in alcuni presepi anzi nella maggior parte in realtà il bambinello è raffigurato con le braccia aperte in segno proprio di amore di fratellanza nei confronti di tutte le persone a prescindere dalla razza dalla religione l'amore come dicevo proprio per la persona umana libera associazioni e nomi e numeri contro le mafie non può non raccogliere registrare la bellezza di questo premio che fa proprio ponendosi in un atteggiamento di grande prossimità nei confronti dei piccoli a me piace per tre motivi un primo motivo perché questo bambino mi permette di avere occhi per vedere oltre le apparenze un secondo motivo è perché questo bambino mi dà la possibilità di avere delle braccia per poter ancora abbracciare qualcuno e un terzo motivo è che questo bambino mi dà la possibilità di avere ginocchia capace di poter ancora contemplare l'innocenza di cui abbiamo tanto bisogno per un'associazione come Libera che lotta alla criminalità organizzata essere prossimi con i bambini significa davvero mettersi in un atteggiamento di grande rispetto di grande accompagnamento ma soprattutto di consapevolezza che loro non sono il futuro ma sono il nostro presente e in questo presente noi ci rispecchiamo ecco qua fine del nostro viaggio Luigi Necco grazie anche la nera e beh come in ogni Natale che si rispetta no sono io che ringrazio voi perché vedi il presepe non è soltanto i grandi scultori del settecento gli artisti i bellissimi bellissimi pastori i re la borghesia questa vita buttata sul presepe no il presepe è la tradizione allora con Marco Di Lello l'assessore regionale ai beni culturali spesso noi ricordiamo a cose anche semplici ma che perlomeno ci permettono di perlomeno di tentare di non uccidere qualcosa che ha ancora qualche messaggio da mandare magari semplice un Natale auguri grazie Luigi e allora che sia veramente per tutti quanti voi un Natale di pace e soprattutto Natale di amore auguri grazie a tutti